I sogni sono una cosa bellissima e bisogna imparare a coltivarli sin da quando si è piccoli. C'è un sipario, Giacomo! E quando c'è un sipario c'è una magia che accade. E questa magia sai come si chiama? Come si chiama? Musical Weekend. Guardiamo. It's a wonderful show al Musical Weekend. And gentlemen, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, ecco voi, it's Musical Weekend, where if you want you can. Ma che spettacolo al Musical Weekend. It's a wonderful show al Musical Weekend. E vogliamo dare il buongiorno all'ideatrice di tutto questo, Francesca Cipriani. Buongiorno, benvenuta al di buon mattino. Benvenuta. Benvenuta a Talent Scout e ideatrice di Musical Weekend. Si tratta di un qualche cosa, adesso fra poco vedremo anche altri momenti e altre cose che vengono realizzate. E come, prima di arrivare alla passione dei più piccoli, insomma, che sono i destinatari di questi sogni che vanno creati e saputi coltivare, la tua passione invece dove nasce? Allora, nasce, ero piccolissima, insieme a mio fratello abbiamo avuto sempre la passione per la danza. Quindi già a 14 anni abbiamo, io avevo 14 anni, abbiamo organizzato il nostro primo evento insieme, quindi diciamo nasce molto presto. Poi l'idea del Musical Weekend invece è nata proprio per dare la possibilità ai bambini, ai ragazzi, che durante la settimana sono impegnati con mille cose, di fare tutte le materie del musical in un solo weekend, quindi è concentrato e loro riescano a fare il canto, danza, recitazione, edizione e tip-tap in un weekend. Ma Francesca, uno pensa forse un weekend non basta per studiare tutte le materie, invece voi avete sperimentato che anzi è un metodo che funziona benissimo, con ottimi risultati. Ci racconti qualcosa? Allora, in pratica questi ragazzi vengono da tutta Italia e loro, io ho studiato proprio questo metodo dove si fanno le quattro ore di canto, che generalmente in una scuola si fa un'ora a settimana, quindi le quattro ore di recitazione edizione, coreografia musica, canto, questo già l'ho detto, però per dire che poi noi indirizziamo chi è più portato verso il canto, verso la danza, verso la recitazione, a studiarlo anche, approfondirlo durante la settimana. Però abbiamo visto sì che funziona perché poi realizziamo un vero e proprio musical alla fine dell'anno, alla fine sono otto incontri perché sono otto weekend da ottobre a maggio e si realizza uno spettacolo di un'ora, quindi è proprio una vera e propria produzione con trucco, carrucco, costumi e tutto quanto. Vogliamo dire anche che possono partecipare i bambini da che età fino a che età? Allora dai sette, diciamo che io arrivo fino ai 17 anni, però insomma ci sono stati anche ragazzi più grandini, oppure più piccoli che introduciamo piano piano, con i loro tempi, perché insomma un full immersion per un bambino piccolino è impegnativo, però quando c'è la passione vediamo che non si stancano mai. E allora vogliamo vedere quale può essere una giornata tipo all'interno di questi musical weekend. Siamo venuti a curiosare insieme a Alessandra Petitta e Simone Nestori al Santa Rita nella vostra sede di Roma. Guardiamo. Benvenuti nella splendida sede del musical weekend, la sede romana del musical weekend. Il musical weekend ha due sedi in Italia, una a Milano presso il Teatro Belloni e una a Roma al Santa Rita, che è una splendida villa dei primi del Novecento dove adesso ci troviamo. Il musical weekend si dedica alla formazione dei giovani, giovanissimi. Si tratta di giovani che un weekend al mese studiano dizione, recitazione, coreografie, canto, fanno moltissime attività artistiche. Chi è il vostro capo? Mister Kinshia Pue! Chi è il migliore? Mister Kinshia Pue! Ecco la tua zuppa di tavolo, non ho già. Che barba! Tutti i giorni zuppa di tavolo. Abbiamo un weekend al mese per 14 ore. Ore di dizione. La parte recitativa è importante, la parte interpretativa. L'interpretazione non è solo recitazione, perché soprattutto nel musical bisogna interpretare quando si danza, quando si canta e quando si recita. Per esempio io spesso faccio fare anche delle improvvisazioni, le abbiamo viste, dei momenti in cui diamo uno spunto e poi lasciamo che la loro fantasia, la loro inventiva possa scorrere e fluire liberamente. Diciamo che il musical weekend è un percorso a 360 gradi, che prevede le materie danza, anche tip tap, che è una danza un pochino antica, ma funzionale a livello artistico, anche perché esorta i ragazzi a cimentarsi un pochettino sul ritmo e sul movimento. Diciamo che con la coreografia hanno una maggiore coordinazione e la difficoltà del musical è proprio di abbinare le tre cose insieme, danza, canto e recitazione, quindi creare dei movimenti adatti a poter riuscire a cantare in maniera tranquilla, quindi il movimento deve essere adatto anche alla canzone che si va a preparare. Cerchiamo di formare dei veri e propri artisti che si esibiscono e quindi avranno questa esibizione finale che è la parte migliore di tutto il percorso. E questo applauso lo vogliamo fare anche ai partecipanti, alle partecipanti di Musical weekend sono bravissimi, abbiamo visto in questo servizio e infatti a questo tipo di insegnamento che gli fornite sembra che reagiscano benissimo, sia come a livello di capacità sia anche a livello di interazione fra loro. Sì, sì, sì. Allora, poi c'è di fondo, diciamo, la mia filosofia non è solo farli crescere come artisti, ma anche come persone, perché abbiamo visto a livello personale, nel senso che prendono anche più sicurezza, genitori che mi dicono che vanno meglio a scuola, che riescono a esporre di più nelle interrogazioni, quindi si aprono molto. Poi condividendo comunque con bambini e ragazzi che hanno la stessa passione, riescono anche i più timidi a bloccarsi. C'è una bambina che l'ultima volta mi ha detto, io prima non parlavo, Francesca, adesso parlo. Ah, che bello. Francesca, abbiamo visto tra le diverse discipline, c'è per esempio il tic tac. Il tic tac, uno pensa che sia da grandi oppure sia difficile, invece ci sono dei bambini, per esempio avevo letto di un bambino che veniva dalla Puglia che è diventato molto bravo nel tic tac. Sì, una ragazza, una ragazza che dalla Puglia ha fatto tanti anni e è diventata insomma una, fa questo di lavoro. Quindi grandi soddisfazioni anche per voi. Sì, sì, ci sono tanti ragazzi che oggi sono adulti, che sembra che ho 70 anni da come parlo, però ho iniziato presto. Vuol dire che ho lavorato bene e tanto. Sì, praticamente adesso tanti lo fanno proprio come lavoro, nel senso che è diventato proprio chi per il classico, per esempio un bambino sempre dalla Puglia, che ne abbiamo avuti tanti dalla Sicilia, dalla Puglia, Calabria, che vengono il weekend e il genitore si fa la vacanza diciamo a Roma e ce li lascia. E questo è un altro spunto interessante per il giro. Lui abbiamo notato, questo bimbo, abbiamo notato subito un talento per la danza classica, così l'abbiamo indirizzato verso il Teatro dell'Opera di Roma e adesso sta a Vienna a 20 anni. Ma complimenti. Francesca, visto che hai nominato i genitori, che feedback ti danno i genitori? Ma i genitori sono la soddisfazione più grande perché tra l'altro proprio ieri ho sentito un'intervista di una mamma che dice io non ho cercato mai altro, questa cosa mi ha emozionato perché dice perché secondo me non c'è un'altra scuola che funziona in questo modo e quindi sono contenti, mi ringraziano perché poi magari si fanno il weekend tra marito e moglie, hanno insomma i bambini che stanno facendo qualcosa che gli piace. Allora abbiamo visto Francesca una giornata tipo, ora invece vogliamo vedere proprio il lavoro finito, vediamo un estratto del grande show. Signore e signori, benvenuti al nostro show. Qui non importa a nessuno se sei la più brava della classe o sei 10 in matematica, sprechi su energie il zuccherino. Sarà un vero inverno. Francesca, questo cos'era? Questo è lo spettacolo finale, il grande show che abbiamo fatto sia a Milano che a Roma. I nostri maestri si occupano anche di scrivere e realizzare tutto il copione, quindi lo facciamo anche in base ai bambini, ai ragazzi che abbiamo di fronte. Abbiamo parlato dei genitori ma anche i nonni possono essere interessati a questi perché magari può essere anche per loro un'occasione di spunto per portare i nipotini lì. Vogliamo dare qualche indicazione per trovarvi? Allora, per trovarci su... allora intanto sul canale Pianeta Cipriani ci sono le pillole del Musical Weekend che in pratica fanno vedere quello che fanno i ragazzi durante... è un modo per loro per mettersi davanti a una telecamera, sono delle piccole puntate di pochi minuti sul mio canale YouTube Pianeta Cipriani e lì insomma si vede quello che fanno e si cimentiano insomma nel casting, nella recitazione. Pianeta Cipriani. Pianeta Cipriani. E allora grazie, grazie Francesca per averci portato nel bellissimo mondo del musical. Grazie. Grazie mille. Grazie.